signora mi scusi lei la mascherina non l'ha comprata no 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 ancora non mi faccio prendere dal panico ecco più avanti vedremo sa che sono andate a ruba non ci trovano più lo so lo so lo so lo so lo so tiriamo avanti cerchiamo un minimo di ottimismo per meno di razionalità ecco e la mascherina l'ha comprata per la volevo comprare ma sono finite sono finite ma come mai non è un esagerato mi sa che c'è un po troppo allarmismo però abbiamo anche paura chiaramente è la prima cosa che si può fare e la comprava e se la metteva e penso sì lei deve comprare la mascherina no no io sto in fiducia sto molto in fiducia sì certo io ho detto va come va sa che sono andate a ruba non se ne trovano più lo so lo so ma non mi pongo il problema sarà quel che dio vuole no no perché a quest'età non ho più paura di niente di niente po di precazione no perché in italia non non penso che arrivi e poi di cinesi ce ne sono pochissimi da noi lei ne fa meno vive così un po meno un po fatalista sì 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 tanto di qualcosa di morire no cosa pensa di questa fobia che è venuta di comprare la mascherina no anche no no ne fa meno sì sì sì